Non si capisce cosa sia, tu hai detto candidino al grino, candidino a nessuno, si candida a lui. Ma io ti ho chiesto. Non mi pare che dice niente di male. Ha lo stesso titolo a candidarsi di Bernusconi e di Vendola. Anzi, Vendola è sicuramente responsabile di quello che hanno fatto per la sanità, con i suoi vostri galera, e delle paleoliche che invece di mettersi nel culo, abbia stato nel paesaggio di Vendola. Tutto quello in cui la mafia trae vantaggio. Vabbè, ma perché di nuovo le paleoliche? Che truccono la bellissima regione Puglia. Ma ci sono dappertutto le paleoliche, anche in Spagna, meravigliose sono. Forse saranno meravigliose per voi che siete i culattoni, quindi diciamo benissimo, due culattoni inculati alle paleoliche. Ma dai, ma perché? Perché contro le paleoliche? Ma io sono a favore, io sono stati in Spagna, sono meravigliose. Prego a me della Spagna. Ti abbraccio, ma dove stai andando sempre a presentare? Sempre a presentare? Ma dove sei? Vendola è inviato giudizio, punto. Ciao, un abbraccio. Ciao a tutti i finocchi rotti in culo. Ciao. Ciao a tutti i finocchi rotti in culo.